Non usiamo la ferrovia Pescara-Roma per le campagne elettorali. Il messaggio di Luciano D'Alfonso è chiaro e la firma del verbale contanto di cerimonia annessa ma senza la sigla del presidente Marsilio dello scorso 23 agosto per l'interamento del tratto di San Giovanni Tiatino, nell'ottica della realizzazione del raddoppio, velocizzazione e un'illusione. Il deputato del PD la chiama cicuta delle menti, il potente veleno che Socrate, il filosofo greco, fu costretto a bere in seguito all'accusa di corrompere i giovani. Ecco io direi evitate da oggi fino alle votazioni regionali di fare sopralluoghi e di firmare fogli di carta volanti perché parliamo di opere ferroviarie, di tracciati dedicati e delicati che se vengono strapazzati con iniziative di questo tipo e magari con procedure progettuali spintonate poi potrebbe anche accadere che magari da qualche parte possa andare in procedimento e magari realizzare quei pezzi di opere infrastrutturali che fanno soltanto invalidamento del tracciato ferroviario. Io conosco la serietà di RFI e anche di Italfair ma conosco il rigore di Hans Fisa che è l'agenzia che certifica la sicurezza delle progettazioni e dei tracciati ferroviari e sono convinto che spettacoli di questo tipo vengono tollerati come appunto passerelle da campagna elettorale. Per fare le ferrovie, ed Alfonso cita l'ultimo incidente avvenuto a Brandizio in Piemonte in cui cinque operai hanno perso la vita, bisogna parlare di tecnicismi concreti e il tratto in questione era già stato attenzionato a suo tempo. E dopo una verifica puntuale in sede tecnica Maurizio Gentile certificò l'impossibilità in ragione di quattro problemi. Il primo problema le pendenze riguardante le imboccature e poi i costi e poi la presenza di servizi e sottoservizi e poi le falde acquifere e poi il dirottamento del traffico ferroviario. Tutto questo fece dire ad una persona moralmente legata alle ragioni dell'Abruzzo non si può fare. Il che non significa di abbandonare ma di evitare l'inganno dell'attivismo durante i periodi elettorali per cercare di stordire il giudizio della cittadinanza. Ecco io voglio dire anche attraverso la stampa in questa fase lasciamo in pace i tracciati ferroviari e magari utilizziamo le piene competenze soprattutto quando la legislatura consente alla regione di fare la regione. Non adesso che siamo alla fine.